La piazzaforte di Pescara e Pescara 1910, sono i nuovi due libri di Licio di Biase, di che cosa si parla? È un approfondimento particolare sulla dinamica della realizzazione, della valorizzazione e poi della fine della piazzaforte di Pescara ed è centrale, così diciamo in questo libro emerge chiaro, è centrale nella vita e nello sviluppo della nostra città. Oggi noi viviamo a Pescara, però ci dobbiamo rendere conto che effettivamente la presenza della piazzaforte ha condizionato moltissimo l'assetto odierno della città di Pescara. Il 1910 è un anno significativo, perché per esempio è stato inaugurato il Cursale, il Teatro Michetti e tante altre strutture, quindi è un anno particolare che dimostra come la città si era messa in movimento dopo l'abbattimento della piazzaforte e si era sviluppato già sul territorio. Ci sono cose che lei ha rivisto poi nella Pescara odierna? Intanto abbiamo il centro storico che è il cuore della città antica ed era il cuore della piazzaforte, o meglio era la piazzaforte, perché la piazzaforte cingeva un territorio che andava da Via Conti di Ruvo a Via Coduta del Forte, dal Ponte d'Annunzio fino alla linea ferroviaria. Ecco, questo era lo spazio della piazzaforte con mura alte 10 metri. È chiaro che lì noi oggi ritroviamo le sensazioni di questa vecchia Pescara. Il centro storico è proprio la continuazione, la continuità di quella stagione. La riconoscibilità nel passato è importante perché rafforza la coesione sociale, cioè l'identificarsi intorno a dei segni, a dei simboli, a degli spazi che hanno una storia e una tradizione, rafforza la coesione sociale, più o meno come quando il Pescara va in serie B o in serie A, cioè questa grande partecipazione, questa grande coesione sociale anche da parte di chi non capisce il calcio. Allora diciamo che intorno al centro storico, piuttosto che intorno al sotterraneo del bastione San Vitale o a Rampigno, adesso questa grande scoperta, ma di cui eravamo tutti consapevoli, può sicuramente rafforzare la coesione sociale della città di Pescara che nel 2027 compiera 100 anni.